Per il momento ha deciso di interrompere la protesta ed eventualmente riprenderla se la situazione non cambierà. Angelo Giacchi, dopo essersi incatenato davanti alla Camera di Commercio Ragusa, ha raccolto infatti l'invito della Presidente di Union Camera, Antonello Montante, ad incontarsi in un'oddia a Palermo e quindi un'occasione per cercare di far sentire la propria voce anche fuori da ristretti ambiti provinciali. Giacchi, come si ricorderà, sulla complessa e delicata vicenda delle aste giudiziarie aveva già effettuato una prima protesta, in quel caso uno sciopero della fame davanti alla Prefettura. Per l'imprenditore vittoriese, la cui azienda agricola rischia di chiudere per un debito, anche la Camera di Commercio ha le sue responsabilità perché, dice, dovrebbe essere la casa di tutte le imprese e invece non è così, essendo diventata col passare del tempo e non solo a Ragusa un carrozzone politico. Obiettivo di Giacchi, come è noto, è denunciare la moria di imprese e la mancanza di accesso al credito e quindi indice puntato anche sulle banche. Banche che proprio ieri hanno avuto un incontro con la prefetta, annunziato Vardè, e invitati dallo stesso rappresentante di governo ad attivare ogni possibile iniziativa mirata a venire in conto alle situazioni più gravi di disagio economico, soprattutto come nel caso in questione, ossia nell'ambito delle procedure esecutive che arrivano perfino alla vendita immobiliare delle case di abitazione.